Ciao a tutti qui The Big Ticket In questo video voglio parlarvi del freelance flusso Come sapete i freelance sono delle serie di schemi che partono in automatico In base a posto dove ci troviamo sul parquet Senza doverli chiamare manualmente Per selezionarlo ovviamente Tasto direzionale destro Premiamo schemi freelance E poi selezioniamo flusso Questo è un freelance adatto soprattutto alle squadre con ottimi giocatori da perimetro Allora prima opzione Ci sistemiamo sul centro Aspettiamo Mitchell che prende il blocco di Collins Gliela passiamo End off di nuovo a Fox che prende il blocco di Collins E va dentro a schiacciare a tutta velocità Prima opzione La seconda opzione è sempre palla a Mitchell In questo caso non facciamo l'end off Aspettiamo che Fox si vada a liberare con un blocco flare In questo caso entriamo e schiacciamo C'era anche come vedete in grafica Il passaggio pick and pop a Kuzma Quindi vi conviene avere anche dei lunghi e sappiano tirare In questo caso vi faccio vedere come Il sistema può partire anche dall'altra parte Non è necessario che parta in un verso Noi comunque con la stessa opzione andiamo sempre a passarla In questo caso vedete come ribattiamo il gioco Quindi non giochiamo sul lato dove è partita l'azione Ma dall'altro dove Mitchell si è liberato per un ottimo tiro da 3 Sfruttando un blocco senza palla E questa è un'altra ottima opzione Altra opzione sempre dal centro Facciamo partire lo schema con Fox Aspettiamo Tatum che si libera con questo blocco La ripassiamo a Fox Guardate invece che sfruttare il blocco Guardate il lato sinistro Mitchell si libera ottimamente con un doppio blocco Va in punta per un tiro da 3 assolutamente libero Adesso sempre dal centro Palla a Mitchell Passaggio solito Passaggio con il quale abbiamo iniziato tutti questi branch E guardate come ci possiamo giocare anche l'Aiso Una spaziatura assolutamente accettabile Adesso guardate Qui le cose cambiano leggermente Ci sistemiamo sempre centrali con Fox In questo caso Aspettiamo quel tanto che basta per far diventare il passaggio un blocco Quindi sfruttiamo il blocco di Mitchell Intanto avete visto Tatum come si è andato tutto lungo la linea di fondo A liberare con un ottimo blocco senza palla per un tiro da 3 Qui ancora aspettiamo che diventi blocco Non la diamo a Tatum come vedete sulla linea di fondo Ma aspettiamo il blocco flare di Mitchell Che va in angolo Ancora un tiro da 3 Davvero tutte soluzioni ottime Adesso partiamo con le soluzioni che partono dal lato Guardate Fox si libera e va a portare un doppio blocco a Mitchell Che sale sempre dalla punta Ancora tiro da 3 Sempre dal lato Ancora un'altra soluzione Parte come prima Doppio blocco Gliela passiamo Ma in questo caso non siamo open Quindi la ripassiamo di nuovo a Mitchell Da cui era partito lo schema Guardate come si ripropone la stessa situazione Semplicemente si invertono i ruoli Fox e Tatum Ancora tripla Per questo è importante avere giocatori interscambiabili Qui ancora partiamo dal lato C'è un'altra opzione Non va a fare il doppio blocco Mitchell Ma ritorna E poi va a fare semplice pick and roll Guardate le spaziature ottime Quindi pick and pop Ottimo tiro Sbagliato Ma abbiamo preso davvero un buon tiro Ancora un'altra opzione Partiamo sempre dal lato Si va a creare il solito doppio blocco sul lato debole Parla per Fox Ancora pick and roll In questo caso pick and pop con Kuzma E andiamo a concludere un'altra ottima azione Qui adesso vi faccio vedere Questi branch Come si sviluppano in transizione In transizione non avremo mai tutti quelli che abbiamo avuto finora Ma si creerà sempre un pick and roll In transizione intendo tutte le volte che prendiamo il rimbalzo Guardate E non partiamo da canestro subito Porto la palla dall'altra parte con Fox Guardate come si dispongono automaticamente Per una soluzione di pick and roll Con ottime spaziature Quasi un 5 fuori Parte il bloccante che nella maggior parte dei casi Entra dentro Adesso vi faccio vedere invece Con il pick and roll manuale Come diventa un ottimo freelance Anche da questo punto di vista Qui pick and roll con Kuzma Gli altri sono spaziati benissimo E' un 4 fuori E il bloccante Qui guardate vi faccio vedere Quello che non dovete fare Prendere il blocco nel lato sbagliato Qui vado in mezzo al traffico E andrò a fare una brutta fine Vado a perdere palla Dovete usare un accorgimento Che vi farò vedere Proprio in questo momento Guardate Collins Mi sta venendo a bloccare dal lato destro Io capisco che è il lato sbagliato Quindi RB su Xbox R1 su PS4 Switch il lato del blocco E andiamo dall'altra parte Perfetto All'ayup fantastico Qui stessa situazione Guardate Aiuta leggermente Donchich Noi la scarichiamo a Kuzma in angolo E andiamo con un ottimo tiro da 3 Guardate le spaziature Come siano davvero perfette Ancora un pick and roll Diamo la palla in angolo a Collins E ancora un tiro da 3 È un sistema di gioco che necessita di 5 tiratori O comunque di gente che sappia un minimo tirare Un valore diciamo di almeno 70-75 di tiro Qui guardate Noi andiamo a punire ogni aiuto Perché siamo assolutamente spaziati nella maniera corretta Ancora in angolo Guardate si libera Mitchell Quindi ogni soluzione ci può portare a un tiro libero Se riusciamo a leggere quello che fa la difesa E agire di conseguenza Ancora sempre Mitchell libero in angolo La difesa deve fare delle scelte Perché siamo spaziati assolutamente alla grande E noi dobbiamo soltanto essere pronti a punirle Usando il passaggio con le icone Qui vi faccio vedere come anche dal lato La spaziatura è ottima Qui entro dentro con Fox A schiacciare Verranno davvero posizionati bene Dunque ragazzi Questo è il freelance flusso Vi ho fatto vedere tutte le opzioni Praticatelo in allenamento Nella 2KU È davvero un sistema di gioco Che può tornarvi utile In leghe online Nel My Team Se avete dei giocatori intercambiabili Tra loro Che riescano a tirare Riescano ad avere un buon apporto offensivo Rimane in ogni caso un freelance Che privilegia soprattutto il gioco dal perimetro Come leggete anche nella scheda Che ci fornisce il gioco Ma vi ho fatto vedere come riusciamo a tirare Nella manovra offensiva Anche i lunghi Con dei pick and roll Pick and pop Grazie alle buone spaziature Che ci fornisce questo freelance In ogni caso ripeto Bisogna avere una squadra Che sappia tirare da fuori Perché avremo molte occasioni Per punire l'avversario dalla distanza E non possiamo Non prendere un buon tiro E vi assicuro che se ne creeranno tanti Detto questo Io vi ringrazio di aver visto il video Se vi è piaciuto mettete un like E iscrivetevi al canale Per avere le notifiche sui prossimi video Grazie a tutti Peace